Con Alberto Elefantino in concerto di Baby Clementoni, a ritmo di musica ogni giorno scopre tante cose, anche l'inglese, e balla sulle note della fantasia. E con Ale Moto Mondiale, pronti via alla scoperta dei numeri, perché tutto il tempo passato a giocare è tempo per crescere. Baby Clementoni, crescere è un gioco bellissimo.